La notizia dell'approvazione oggi in Consiglio dei Ministri di un provvedimento che favorirebbe il Salva Roma è sicuramente una buona notizia, che induce però la nostra organizzazione a proseguire in un'azione di richiamo verso la Giunta e verso il Sindaco per puntualizzare un nuovo modello di messa a sistema di quella che è la politica da attuare su Roma. Roma è una città che ha delle emergenze che vanno immediatamente affrontate e una di queste è quella dei modelli gestionali e di partecipazione del Sindacato alle scelte. Per questo stiamo valutando anche l'ipotesi di manifestare questa necessità di un miglior confronto al Sindaco Marino, eventualmente di concerto anche con l'altro S, cosa che stiamo valutando proprio in queste ore.